Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati in nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di Covid, andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, dunque dati ovviamente che riguardano la Sicilia, 678 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia a fronte di 8.654 tamponi processati nell'isola. Il tasso di positività è sceso e adesso è poco al di sopra del 7,8%, con la Sicilia che ormai stabilmente al quarto posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 58.980, mentre i guariti sono 1.146. Purtroppo si registrano altre cinque vittime che portano il totale dei decessi a 10.973 dall'inizio della pandemia, dato che riguarda solo la Sicilia. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 543, 18 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva ci sono al momento 25 persone, in questo caso non si sono registrati né decrementi né aumenti, è lo stesso numero del giorno prima. A livello provinciale invece stavolta in Messina, la provincia con il maggior numero di nuovi casi 387, poi Palermo con 295, Catania con 279 nuovi casi e poi le altre province con dati decisamente più bassi. Lo ricordiamo, lo ribadiamo, questo è il bollettino l'ultimo diramato dal Ministero della Salute, dunque bollettino che si riferisce alla giornata di ieri, venerdì 3 giugno, poi in serata quando verranno dati, i nuovi dati chiaramente ve li daremo nel corso delle edizioni di Spazio Notizia. Ma parliamo ancora di Covid con il consueto report settimanale, in questo caso quello che va dai giorni 23 al 29 maggio, si registrano in Sicilia, si registra in Sicilia ancora un netto calo dei contagi. Vediamo il report. Nella settimana dal 23 al 29 maggio continua a ridursi la curva epidemica in Sicilia, l'incidenza di nuovi soggetti positivi è pari a 15.569, meno 7,27%. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania e Siracusa. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano essere quelle tra gli 11 e 13 anni e tra i 6 e i 10 anni, in calo anche le nuove ospedalizzazioni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i dati riportati fanno riferimento alla settimana tra il 25 e il 31 maggio. Nella fascia di età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,19% del target regionale. Sono 73.632 i bambini che hanno completato il ciclo primario con una percentuale pari al 23,38%. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,10% del target regionale, mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'88,82%. Sono 941.938 i soggetti che possono effettuare la somministrazione booster, ma non l'hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati con terza dose sono 2.729.746, pari al 74,35% degli eventi diritto. Dal 1 marzo, infine, sono state effettuate complessivamente 24.092 somministrazioni di quarta dose, di cui 17.221 ha over 80. Cambiamo adesso argomento. È morto a Milano il boss Raffaele Ganci, capo mafia della cosca del quartiere palermitano della Noce, ritenuto un fedelissimo di Totorina. Ganci aveva 90 anni ed era ricoverato all'ospedale San Paolo nel reparto detenuti. Stava scontando diversi ergastoli, fra gli omicidi di cui era considerato responsabile, anche quello del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, ucciso in via Carini a Palermo il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Tra i killer del commando che uccise il generale c'era anche Calogero Ganci, figlio di Raffaele. E adesso torniamo a parlare dell'attacco hacker subito dal sistema informatico del comune di Palermo perché ci sono degli sviluppi. Questo attacco hacker che, come detto, ha fatto saltare il sistema informatico del comune paralizzando, pensate un po' i 5.000 computer di Palazzo delle Aquile. Sono stati tanti ovviamente i disagi per gli utenti dei vari servizi come l'anagrafe o ad esempio il servizio tributi. Intanto la polizia postale è a lavoro insieme ai tecnici informatici della SISPI, ovvero la società comunale che gestisce la rete informatica per cercare di risolvere il problema, ma difficilmente il sistema sarà sbloccato prima di lunedì. Ovviamente si vuole adesso risalire agli autori di questo attacco hacker potrebbe trattarsi di una banda straniera che dall'estero chiede riscatti online, quindi vedremo se in effetti si arriverà a capo di questa questione. L'attacco al sistema informatico comunque non ha avuto conseguenze sulle elezioni e sugli adempimenti che procedono all'appuntamento con le urne del 12 giugno prossimo. Dunque da questo punto di vista nessun problema, nessuna interruzione, molti disagi invece lo ribadiamo per quanto riguarda i servizi per gli utenti come l'anagrafe, il servizio tributi e non soltanto. Torniamo adesso invece sull'attacco ai due pescherecci italiani, l'attacco di una motovedetta libica che ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento verso queste due imbarcazioni italiane, entrambe iscritte al compartimento marittimo di Catania. Le due navi, due pescherecci sono il Salvatore Mercurio e il Luigi I. I colpi fortunatamente non hanno provocato danni alle imbarcazioni e non ci sono stati feriti. In zona è poi intervenuta la fregata grecale della marina militare che ha invitato la motovedetta ad allontanarsi mentre un team sanitario e uomini del San Marco sono poi saliti a bordo dei due pescherecci per garantire la sicurezza degli equipaggio. Il Ministero della Difesa, Lorenzo Guerini, è stato ovviamente informato della situazione. Secondo il racconto di chi era a bordo del Salvatore Mercurio, i libici avrebbero sparato una serie di colpi di avvertimento, come detto, senza però provocare danni. Le due imbarcazioni sono state avvicinate da una motovedetta libica perché, almeno così pare, avrebbero violato le zone di pesca del paese nordafricano. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi su questa vicenda. Adesso invece parliamo di controlli alle aree rurali per evitare gli incendi. A Paternò sono già scattate le prime sanzioni. I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno pianificato numerosi servizi preventivi di controllo del territorio tesi a contrastare il fenomeno degli incendi boschivi nelle aree rurali della provincia etnea, già duramente colpita nel corso della precedente stagione estiva. In particolare, i carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno svolto un esercizio coordinato a Paternò nella zona di Ponte Barca e delle contrate Scidicuni e Pietralunga, dove, più frequentemente, si sono verificati incendi boschivi. Il servizio è stato preceduto da una minuziosa attività informativa, consistente nell'acquisizione, raccolta e consultazione dei catasti degli incendi degli ultimi anni, dove sono indicate le particelle di terreno già percorse dal fuoco e per questo, come prevede la legge quadro in materia di incendi boschivi, soggette a vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni. Le zone boscate e i pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, sono stati dunque sottoposti a controllo, identificando 42 persone, principalmente agricoltori e allevatori di bestiame, sanzionandone amministrativamente 8 per complessivi 6.250 euro, per aver fatto pascolare mandrie di bovini in violazione del divieto di pascolo decennale nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. E a proposito di incendi, l'assessore regionale all'agricoltura, Tony Scilla, è stato aderice per un sopralluogo all'area demaniale Martogna, colpita da un devastante incendio lo scorso 5 maggio. È terrificante, ha scritto l'assessore su Facebook, costatare come possano esistere esseri umani capaci di commettere gesti così efferati e dannosi per un'intera comunità. Chi vuole strumentalizzare, speculare politicamente su questi episodi, dimostra incompetenza, approssimazione e malafede. La campagna di prevenzione quest'anno è partita da oltre un mese, senza ancora legge di stabilità approvata. A fine aprile circa 10.000 forestali erano al lavoro in tutta la Sicilia. Utilizzando parte dei 23 milioni di euro del piano di sviluppo e coesione, ha affermato ancora l'assessore Scilla, già nel prossimo autunno inizieranno i lavori di ricostituzione e di messa in sicurezza che riporteranno Martogna a essere il necessario polmone verde della splendida città di Erice. Adesso invece torniamo a occuparci del caso che ha commosso tutti del neonato abbandonato a Catania con ancora il cordone ombelicale attaccato. Ebbene mon signor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, ha scritto una lettera indirizzata sia al piccolo Germano, questo è il nome che gli hanno dato i medici che lo hanno preso in cura, ma anche alla madre del piccolo, dunque alla donna che lo ha abbandonato. Chi si prenderà cura di te e di altre mamme come te, scrive Monsignor Renna, credo che il tuo gesto di lasciare Germano in una cesta, come il piccolo Mosè esposto sulle acque del Nilo e salvato dalla figlia del Faraone, sia stato un atto estremo e disperato, meditato a lungo nei mesi in cui hai tenuto nascosto un segreto che ti ha cambiato la vita. Intanto ti ringrazio a nome del tuo bambino e della famiglia che sarà sua perché gli hai dato la vita e l'hai fatto nascere, sei già grande per questo. Ti consoli questa gratitudine, scrive Monsignor Renna, mentre il tuo cuore sanguina. Catania è una città con tanti mali, ma è anche abitata da tante persone disposte a prendersi cura degli altri. Cerca una spalla su cui piangere, una persona a cui aprirti con discrezione, che sappia ascoltare la tua rabbia e quelle speranze di tenere Germano, che forse hai coltivato fino alla fine. Oggi tu hai bisogno di calore come ne ha bisogno Germano. Queste le belle parole di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Adesso invece parliamo del Taormina Film Fest perché ad aprire questa edizione sarà davvero un grandissimo del cinema. Sarà infatti il leggendario regista, sceneggiatore, produttore statunitense Francis Ford Coppola ad aprire la 68esima edizione del Taormina Film Fest domenica 26 giugno con Il Padrino nella suggestiva cornice del teatro antico. Il grande regista presenterà la versione restaurata del suo film, che è stato distribuito quest'anno a livello mondiale dalla Paramount Picture per celebrare il cinquantesimo anniversario. Icona cinematografica senza e uguali, Coppola ha creato indimenticabili pietre miliari nella storia del cinema, quali La Conversazione, Apocalypse Now e la stessa trilogia del padrino. Nel corso di una carriera lunga, 70 anni, ha ricevuto sei premi Oscar, due palme d'oro al Festival di Cannes e il leone alla carriera alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ovviamente soddisfatti i direttori del Taormina Film Fest, Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontigia. Avere il maestro Francis Ford Coppola dicono ci riempie di gioia e orgoglio assistere alla proiezione del padrino al teatro antico, alla presenza di uno dei massimi cineasti di sempre, si candida sin d'ora quale evento imperdibile dell'estate cinematografica e culturale italiana e internazionale. Certamente sarà davvero un grande momento. E un'altra iniziativa invece importante dal punto di vista culturale è in programma domani, domenica 5 giugno, prima domenica del mese. In Sicilia infatti si potrà entrare gratis in tutti i parchi archeologici, i musei e i luoghi della cultura che dipendono dall'assessorato regionale dei beni culturali della Sicilia. Lo ha disposto l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, aderendo già dallo scorso aprile alla nuova campagna promossa dal Ministero della Cultura. E dunque questa è certamente una bellissima iniziativa da cogliere al volo. Intanto noi ci fermiamo qui, non ci sono aggiornamenti, ma ci rivediamo più tardi con una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.